Simon Wiesenthal, il cacciatore di criminali nazisti, l'uomo che aiuta Israele a trovare e a catturare Adolf Eichmann, l'architetto della soluzione finale, è il sopravvissuto ai campi di sterminio che all'indomani della guerra sceglie di fare giustizia e non vendetta, ovvero bisogna portare di fronte alla giustizia i criminali nazisti affinché il mondo veda quello che hanno commesso e dunque quei crimini possano non ripetersi mai più.